Ciao, prima di iniziare metti un mi piace e premi il tasto iscriviti. È giunta la drammatica notizia della morte di Silvio Berlusconi all'ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate questa mattina, dopo quattro giorni di ricovero. Venerdì scorso era tornato nella struttura per sottoporsi ad accertamenti programmati, come riferito dai suoi medici che lo seguono per la leucemia mielomonocitica cronica, una malattia di cui soffre da tempo. Davvero, non ci sarà mai un altro come Silvio Berlusconi. Solo una persona dal carattere così gioioso poteva pensare di scherzare con un gruppo di ragazzi poco prima di essere ricoverato. Questa è la testimonianza del titolare di un bar a Milano 2, che si era trovato di fronte a lui prima dell'ultimo ricovero di qualche giorno fa. Ecco le sue ultime parole pronunciate pubblicamente, come era solito fare ad alta voce. Ragazzi, ricordatevi che io sono sempre l'uomo più potente d'Europa. Insomma, Berlusconi con la sua solita ironia riusciva sempre a strappare un sor. Grazie. 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 Grazie.